Ciao ragazzi, siamo a Lost and Found a Cipro, questa sera ero ospite di Dinos che abbiamo ospitato in uno dei best 50 bar of the world, la loro capacità, la loro professionalità di tantissimi drink e vi posso garantire tantissimi drink. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.